Per affrontare la simbologia della luce è importante comprendere come essa sia una forma simbolica che si ritrova in innumerevoli tradizioni che vanno sia nell'ambito orientale sia in quello occidentale, soprattutto nell'ambito delle religioni e degli esoterismi che hanno costituito e innervato la stessa tradizione cristiana, ma non naturalmente soltanto quella cristiana, anche quella ebraica, quella induista e quella islamica, per dirne soltanto alcune. La luce fondamentalmente può essere interpretata come la manifestazione simbolica di un aspetto del mondo originario, cioè la luce è qualcosa, è quella manifestazione sensibile, non formale, non afferente al mondo delle pure forme, ma bensì al mondo sensibile che si dà come visibile. In altri termini possiamo dire che la luce è il tramite tra l'invisibile e il visibile, in quanto è la condizione di possibilità di ogni visione del mondo sensibile, allora essa si colloca alla soglia tra il sensibile e il non sensibile, il sovrasensibile, ed ha accesso, pur essendo essa stessa informale, non afferente al mondo delle forme, dà accesso alle forme, alla formalità. Ed è questo il motivo per il quale, in numerose tradizioni, e ne citiamo qui adesso soltanto due, facendo riferimento proprio a dei testi importanti, è questo il motivo per il quale, dicevamo, Essa è vista come il principio originario in molti ambiti. Basti pensare in maniera molto semplice al fiat lux, che notoriamente nell'antico testo biblico è presente nell'atto della creazione, del cosmo, della manifestazione, del mondo, a partire dall'atto creativo, della parola creativa divina. Anche nella tavola di smeraldo, è questa la prima fonte che citiamo, vi è questo tipo di interpretazione. La tavola di smeraldo o tavola smeraldina è attribuita a personaggi che appartengono alla tradizione esoterica e anche in parte mitologica, come Apollonio di Tiana e Ermete Trismegisto. Forse più probabilmente l'autore è proprio Ermete, ma trattandosi di un racconto parzialmente mitologico, possiamo anche pensare che sia stato Apollonio di Tiana. E qui viene scritto qualcosa del genere. Ecco descritto in tre pervi passaggi sintetici, ermetici appunto, come la luce sia collocata in origine a partire da quella parola divina, che nella Bibbia è notoriamente divulgata con il termine Fiat Luz. Un termine, o meglio una concezione, che ritroviamo anche nel pensiero cabalistico, nel pensiero ebraico esoterico della cabala, dove la luce, che è in ebraico Aor, è irraggiata a partire dal punto primordiale che genera poi l'estensione delle forme sensibili che si danno nello spazio-tempo. Ma prima che si dia lo spazio, prima che si dia la temporalità irrelata a questo spazio, ecco che vi è questo irraggiamento di raggi appunto, di luce, che manifestano la sensibilità. Ecco quindi come la luce sia interpretata in un primo momento come l'origine primordiale del cosmo, come lo stesso Dio, potremmo dire. Infatti, nella prima parte di un altro testo, e questo è il secondo a cui abbiamo fatto riferimento all'inizio, cioè la nicchia delle luci di Al-Ghazali, è dedicato proprio questo argomento della luce, come ben il titolo evidenzia, e si dichiara qui proprio che Dio è la sola luce dalla quale tutte le luci discendono in un modo analogo alla distribuzione della luce fisica nell'universo. E fa un esempio poi. Si pensi, ad esempio, alla luce della luna che proviene dal sole, la quale entra in una stanza attraverso una finestra, riflettendosi in uno specchio, sospeso ad un muro che la rigetta su un altro muro, il quale a sua volta la rispinge al suolo. Ecco, questo continuo riflettersi, questo continuo rifrangersi della luce, che qui viene così ben esemplificato da Al-Ghazali, un noto filosofo di tradizione islamica, ecco, mostra chiaramente come la luce che noi percepiamo tutti, in tutti i giorni, quotidianamente, la luce sensibile abbia il suo fondamento nella luce che è Dio, nell'unica vera luce che è Dio, e a partire dalla quale tutto si dà attraverso questo stesso gioco del riflettersi, continuo su superfici diverse. Quindi Dio è proprio l'origine e Dio è dunque la luce in quanto origine. Si parla qui di una luce quindi metafisica, di una luce sovrasensibile, di una luce che è poi a fondamento di tutte le possibili luci sensibili che noi possiamo cogliere, anche quella del sole che è così legato a una concezione di luce divinizzata, potremmo dire. Ora, se è vero quello che abbiamo detto, vi sono anche altre condizioni e concezioni con cui noi possiamo interpretare la nozione simbolica di luce. E la più lampante è quella della luce come conoscenza. Non a caso si utilizza anche in italiano il termine illuminazione, per dire colui che ha raggiunto uno stato di conoscenza totale delle leggi dell'universo, colui che è in armonia col cosmo, colui che è l'iniziato che conosce, conosce i misteri del cosmo. Quindi una conoscenza non discorsiva, una conoscenza non come la si intende tradizionalmente nell'Occidente contemporaneo, bensì una conoscenza di natura parzialmente sovrasensibile, indicibile, una conoscenza di fatto mistica. E questa concezione della luce la ritroviamo nell'induismo, per esempio, oppure in Cina. E sempre in Cina possiamo andare attraverso questo paese a cogliere un altro aspetto simbolico della luce, cioè quello della dualità, perché la luce è sempre letta e interpretata in contrapposizione al suo opposto, che sono le tenebre. Quindi la dicotomia, la polarità, luce e tenebre è un qualcosa che si ritrova in numerevoli tradizioni. Ed è proprio questa polarità che sembra essere originaria tra luce e tenebre a potersi manifestare in ulteriori dicotomie, quella dello Yin e dello Yang. Ed ecco l'elemento della Cina che congiunge questi due aspetti che stiamo analizzando della simbologia della luce. Ma non solo, non soltanto in Cina, abbiamo anche altre tradizioni che ci mostrano come vi siano delle forme di polarità originaria altrettanto come lo sono la luce e le tenebre. Per esempio, Ormuzd e Ariman, nella tradizione zoroastriana della Persia antica. Ora, un altro modo per interpretare questa dualità che in numerevoli tradizioni hanno è quella dei Deva e degli Asura, che sono le divinità buone, per semplificare, e le divinità cattive nella mitologia induista. Ma non è solo questa la simbologia, perché se è vero che esiste la dualità, allora potremmo dire che il ritorno all'origine è proprio il superamento di questa stessa dualità. Se è vero che il mondo, secondo molte tradizioni che abbiamo evocato, è sempre inserito in questo scontro-incontro delle polarità opposte, è possibile ritornare all'origine, ancora più originaria di questa polarità, superando la dualità. E qui possiamo citare un testo famoso di Chuang Tzu, che invita proprio a questa unità di natura quasi ermetica, potremmo dire, parafrasando il corpus ermeticum, in cui si fa riferimento proprio al mistero della cosa unica, cioè a quel tentativo che noi tutti siamo invitati a fare, secondo questo testo, di sentirci parte di una unità che ci trascende come individui. E qui Chuang Tzu dice, seguitemi, al di là dei due principi, fino all'unità. I due principi sono la luce e le tenebre. Dal punto di vista degli uomini ordinari, insegna il patriarca Hu Ineng, illuminazione e ignoranza, ossia luce e tenebre, sono due cose differenti. Saggi che realizzano a fondo la loro natura, sanno che sono la stessa natura, che sono della stessa natura. Cioè, la mente discorsiva, dialettica, ci insegna che da una parte c'è l'ignoranza, dall'altra l'illuminazione, da una parte le tenebre, dall'altra la luce. Ma se noi siamo realmente realizzati, secondo una concezione tradizionale del termine, allora, dice Chuang Tzu, noi non vediamo più la distinzione tra queste categorie differenti, ma viviamo nella piena unità. E non siamo né illuminati né ignoranti, perché queste forme discorsive, queste forme categoriali, non hanno più alcun significato. Quindi la luce può essere interpretata, anche in questo senso della dualità, dicevamo, e quindi essere letta in contrapposizione all'ombra e alla oscurità, come un qualcosa che precede anche la luce. In altre tradizioni, in altre concezioni iniziatiche, noi possiamo vedere, come sempre, l'oscurità, la notte oscura dell'anima, diceva San Giovanni della Croce, l'anigredo, per utilizzare un termine che viene ripreso poi anche da Jung, ma che è proprio della alchimia, l'anigredo, la fase di disgregazione, la fase del nero, nero più del nero, ecco, questo tipo di oscurità precede poi la luce. È una fase necessaria all'affermazione della potenza positiva della luce. Quindi oscurità e tenebre da un lato e luce e luminosità, illuminazione dall'altro, sono sempre presenti e l'una necessita dell'altra per affermarsi, anche in un processo di conoscenza iniziatica, così come bene si riassume nel rituale massonico in cui si dice che ricevere la luce è l'essere ammessi all'iniziazione. E c'è tutto un rituale in cui il maestro venerabile dà la luce attraverso un rito ben preciso che non stiamo qui a specificare, ma che fondamentalmente consiste nel mostrare al neofita, a colui che si sta avvicinando, che vuole entrare dentro una particolare loggia massonica, consiste nel dare luce a questo iniziando e questo iniziando diventa iniziato nel momento in cui tolta la benda riceve l'improvviso bagliore della luce da parte del maestro venerabile e da parte di tutti i membri della loggia che dirigono verso di lui la punta luminosa e rispecchiante della spada, in una simbologia che qui viene ripresa. Quindi la luce è sempre simbolo di conoscenza, sempre simbolo di iniziazione a una realtà superiore, di accesso al mondo, a un mondo sovrasensibile e anche i cristiani, anche il cristianesimo, soprattutto nella sua versione giovanea, che è quella più poetica, che è la versione del cristianesimo più esotericamente interessante, possiamo constatare come nel cristianesimo appunto il Cristo sia il simbolo della luce nel mondo e del mondo. È la possibilità stessa, l'incontro con il Cristo, di incontrare la luce dentro il mondo. Quindi l'incontro con Dio incarnato nella figura storica di Gesù detto il Cristo è la possibilità proprio di divenire illuminati all'interno del mondo attraverso questo incontro e anche attraverso la potenza generativa dativa dell'amore che è un tipo di condotta etica quella dell'amore che il cristianesimo notoriamente insegna e che ne fa il suo cardine, il suo fulcro teorico e pratico allo stesso tempo. L'amore come potenza che ci avvicina a Cristo in quanto è il Cristo stesso a darcela e quindi noi possiamo incontrare questa luce attraverso l'amore secondo la concezione cristiana e qui concludiamo questo già abbastanza e sufficientemente lungo video che voleva introdurre alla simbologia della luce. Grazie a tutti.